Ciao a tutti e bentornati sulla rubrica Biblioteca. Oggi voglio presentare un libro che mi sta molto a cuore che è Resilient di Marco Valazzini. Questo libro è tutto da contrasto al costo di 29 euro, diciamo abbastanza grande, un 30 cm x 30 circa, e composto da circa 190 pagine. Questo libro è il racconto dei tanti viaggi di Marco Valazzini in Africa, in cui racconta le difficoltà, le guerre e tutti i problemi che scompassano per le terre. Ma questo libro, oltre a non spettacolarizzare mai certe situazioni di dolenza o di sofferenza, come suggerisce il nome, cioè Resilient, è un libro con una cotta di foto che in qualche modo ispirano l'autore di ricercare sempre l'ottimismo, comunque il piacere della ricerca, della vita, che queste popolazioni mantengono vive da di loro, pur appunto essendo di lei alteranti problemi di difficoltà. Le foto di Marco Valazzini sono incredibili, nel senso che comunque sono interessanti, belle, profonde e comunque mantengono sempre, come dicevo prima, quella sensibilità di non dover mai spettacolarizzare i problemi o le sofferenze umane. Ci sono tante foto che comunque sono, ci sono tante foto che hanno una predominanza di toni scuri in un contesto colorato che a me piace molto, una città stilistica che comunque ha e identifica molto il marchio di Valazzini. In questo libro poi ci sono le foto con cui Valazzini ha vinto il World Press Photo, tra cui una di queste che vi sto per far vedere. Comunque il libro merita assolutamente, è interessantissimo e consiglio a tutti quanti l'acquisto. Comunque chi volesse approfondire ancora di più tematiche e la visione dell'autore, rimando a un video che abbiamo fatto su incontri in cui intervistiamo Valazzini stesso. Ciao a tutti, e a ripetere che approfondire.